raffaele ruta getta il rotolo di carte sui sedili posteriori della mia auto è contento della mia telefonata non si aspettava che gli chiedessi seguirlo per campagne e masserie sono vecchie carte militari crocifiggono le campagne su assi cartesiani e danno un nome ad ogni strada ad ogni masseria ad ogni contrada disegnano con elissi concentriche alture e avvallamenti allampanato e stempiato il mio compagno di viaggio vive traslocato nell'età che va scandagliando lo sorprendo talvolta con le mani che agitano l'aria gli occhi persi io so che sta dialogando con i fantasmi della letteratura greca e latina li sta interrogando o sta confessando loro un'idea un'intuizione un progetto l'asfalto corre tra i capannoni della zona industriale di bari si lascia alle spalle modugno va verso foggia al svincolo per ruvo prendiamo una strada che si perde tra gli olivi stretta sbreccata deserta è l'antica via traiana viene anzi veniva da roma proseguiva verso brindisi insieme all'appia per chilometri costeggia la nuova statale si lascia talvolta tagliare da quella tal'altra ne perde i contatti per questa strada secondo raffaele scese orazio e non per l'appia come si crede questa strada descrisse nella satira quinta a canosa il pane è duro come sasso in quel paese fondato da diomede c'è soltanto un orcio d'acqua giungemmo quindi a ruvo stanchi lunga era stata la strada è fatta più dice agevole dalla pioggia il giorno dopo il tempo migliore ma la via peggiore fino alle mura di bari pescosa è un originale questo mio compagno vissuto per anni tra istituti universitari si è sempre più convinto che non si può fare ricerca archeologica e topografica senza compassare il territorio palmo a palmo legge plinio e strabone e segue le loro indicazioni di percorso si perde per le campagne pugliesi e visita cimiteri rovine ammassi di cocci e di pietre cercando un'altra puglia una regione arcaica della quale si sono perdute le tracce e la memoria la via traiana dice potrebbe corrispondere all'antica via minucia è una scommessa ma seguendo questa convinzione è sufficiente seguire le indicazioni degli antichi combinate con le informazioni dei contadini e con le notizie della tradizione per trovarsi di fronte a scoperte sensazionali la traiana si infila dunque nel cuore di ruvo e colloca la città peuceta al centro di un vasto territorio archeologicamente interessante per capire l'inizio delle devastazioni ruvesi bisogna andare ai principi del secolo scorso in quegli anni infatti scrive giovanni iatta nel suo cenno storico sull'antichissima città di ruvo nella peucezia la speculazione dei scavamenti cominciò a porsi di moda ma nell'anno 1822 giunse al furore e fu portata al punto da non potersi oltrepassare i reperti archeologici dissotterrati in una città che si andava ristrutturando e da campagne sottoposte a nuovi dissodi cominciavano a prendere le vie dell'america e dell'europa ruvo taranto e canosa sono state le città pugliesi più martoriate dai furti archeologici fu in quella circostanza che i giatta decisero di raccogliere e conservare il maggior numero di testimonianze del passato ne doveva nascere una collezione di busti marmorei ornamenti preziosi e vasellame attico corinzio appulo e daunio che giovanni iatta offrì alla sua morte in acquisto alla reggia casa degli studi di napoli ma giulia aviesti cognata di giovanni e moglie del fratello giulio si adoperò perché il patrimonio archeologico non uscisse dalla casa gentilizia con l'amarezza che nasce dalla dispersione di un patrimonio inestimabile con la certezza che nell'istante in cui stiamo salendo le scale di questo palazzo privato nelle campagne circostanti si stanno consumando diecine di scempi archeologici e di profanazioni tombali ci accostiamo a uno dei miti del mondo greco e altrettanto mitico supporto figulo che lo racconta il vaso di talos il gigantesco talos creatura tutta di bronzo collocata da giove a difesa dell'isola di cipro è in posizione di abbandono nel momento della morte tra i dioscuri castore e polluce che a cavallo chiudono la quinta della raffigurazione ad osservare il decesso insieme a medea che anticipa l'approdo della nave argo sono giasone i suoi compagni con atena e la vittoria lata guardano perplessi la fine della creatura invincibile il mito raccontato da pollonio rodio nelle argonautiche riferisce di un uomo di piombo che ha un unico punto debole al malleolo dove infatti di carne per virtù delle magie di medea il povero talos batte il malleolo contro lo spuntone di una roccia ed è da quel punto vulnerabile che fuoriesce tutta la sua forza vitale ma la perfezione formale narrativa presentata dal vaso non trova unica sede in questo esemplare perché io resto ogni volta affascinato dalle figurazioni corali di un cratere del quarto secolo avanti cristo in cui il giardino delle esperidi fa da corona all'albero dei pomidoro difeso da un pubblico serpente o da un più fastoso cratere apulo dove in varie sequenze si racconta la distruzione della ricca famiglia di niobe con queste meraviglie negli occhi con l'aria che sa di ambrosia e un cielo popolato di dei e di eroi riprendiamo la via traiana il regno di domenico cantatore si apre nelle viuzze della cittadina peuceta le donne non stanno più sulle soglie a pettinarsi o ad asciugarsi i capelli bagnati al sole né i contadini sono più gli stessi quelli dalle mani nodose le coppole calcate il panorama sociale è mutato in pochi anni e ha lasciato spazio alla borghesia impiegatizia e imprenditoriale di coppole se ne vedono pochi ormai anche qui e pochi sono anche gli affiliati alle congreghe i perdoni nascosti sotto pesanti cappe di velluto paurosamente incappucciati come in molte tele del maestro ruvese che ora ha scoperto i cieli della sera e le macchie di colore del tramonto rosso e giallo da bestia macellata come amava dire vittorio bodini resta intatta nel cuore della ruvo antica la sua cattedrale meraviglia delle merlettature litiche che per un momento distrae la mente dal suo imbambolamento classico e peuceta la costringe a un salto nel tempo a un repentino cambio di costumi di linguaggio di soggetti ma è un momento non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di medioevo direbbe ungaretti e tiriamo dritto fino alla stradicola che sfugge alle case si perde tra gli sbarramenti dei nuovi quartieri a fatica si fa ritrovare in periferia si getta tra le campagne ed è appena una interpoderale che si slarga procede male asfaltata tra olivi e mandorli fino alla periferia di corato dove nuovamente viene interrotta dai condomini della recente speculazione edilizia si riaffaccia oltre il paese e si lascia tagliare dalla statale per foggia così che è con difficoltà che riusciamo a individuarla tra le campagne tra le viti a tendoni i maggesi le colture di grano la bella traiana procede ora rettilinea incrocia un antico tratturo segnato da un pilastro e da uno stemma borbonico e corre verso andrea che lambisce in prossimità di andrea divergiamo imboccando una carraia che si inerpica su per la collina di santa barbara una collinetta segnata la terrazza e coltivata a mandorli e agrumi verso la parte più bassa e calva verso cima la strada si inerpica per un miglio poi si perde tra le erbacce e qui si levano cumuli di pietre muraglie divorate dall'orso selvatico e dai cardi infestate di veccia trifoglio cicorie muraglie che girano in cerchi concentrici sovrastanti l'uno all'altro fino a uno spiazzo che è l'acropoli di questo sito antichissimo che il mio accompagnatore con entusiasmo chiama netium netium città peuceta forse distrutta dai romani ricostruita probabilmente a valle nella piana che si stende sotto i nostri occhi tra la marina e la traiana in quell'immenso ammasso di cemento che oggi è andrea i segni dell'antico insediamento sono sparsi tra le erbe e le pietre sono cocci di vasi a figure geometriche tegole coperture tombali fu proprio su questa collina che venne rinvenuta la tomba di un guerriero da uno il cui corredo si conserva presso il vescovado di andria un'identica dislocazione urbana rivelò tempo addietro un altro importante insediamento nei pressi gioia del colle monte sanasce a parlarne è il solito strabone il geografo greco vissuto nel primo secolo avanti cristo a sentire lui ma anche stando a quanto raccontano gli scrittori latini dovrebbero prima o poi venire alla luce i resti di altri insediamenti abidon bibae candane lupatia camminiamo dunque su mare di sepolture ci aggiriamo su terreni che paiono muti e privi di racconti ma che sotto la crosta nascondono una vitalità tumultuosa è questo contrasto che ricordo espresso in maniera formidabile da un nicola sole preromantico nell'ode allo ionio a riassalirmi mentre dalla collina di netium intorniamo verso valle fino alla traiana che procede ora verso altri paesaggi campestri dominati dalla mole perfetta e solitaria di castello del monte corre con improvvisi saliscendi verso l'antica e sfregiata canosa che disastro canosa nei miei ricordi di infanzia era la porta della puglia la città dei cavallari e dei vinai quando i miei parenti partivano da melfi erano diretti a lavello e poi a canosa dopodiché erano in puglia la grande puglia dei marinesi mio zio alessandro ci arrivava di tanto in tanto per vendere castagne tornava sempre con un involto di carne di cavallo la consegnava mia madre diceva che me la facesse arrosto perché metteva sangue mangiavo carne di cavallo con riluttanza il cavallo è un animale maestoso e sacro un amico dell'uomo mangiarne la carne è rivelarsi un po antropofagi uccidere in qualche modo la bellezza perciò mi apparivano strani i canosini produttori di un'uva da vino che noi lucani spesso abbiamo usato per tagliare l'aglianico l'uva canosina appunto e la loro stranezza l'ho verificata più tardi quando con un giovane del posto sono stato a visitare tutta una serie di tombe profanate ci aggiravamo io e andrea per gli oliveti scendevamo alle discariche dove arrivavano di tanto in tanto furgoncini carichi di calcinacci e terra e blocchi di cemento o ci riempivamo le scarpe di rena e di fango infossandoci tra i solchi delle recenti arature come luccicavano i frammenti di vasellami dispersi nei solchi si vedevano con frequenza anse d'argilla boccagli fondi di vasetti policromi pesarole e inintellegibili cocci marchiati andrea scavalcava altissime arte di tufo e raccoglieva lame di selce pietre belle levicate cocci in una di queste incursioni troviamo persino qualche moneta romana e frammenti di vasi che combaciavano da qualche lato passeggiate consumate tra l'ansia di rinvenire qualcosa di integro e la continua e tragica constatazione di una sconfitta irrimediabile dell'intelligenza e dei patrimoni culturali la grande canosa giaceva in poltiglia sotto gli aratri sotto le fondamenta delle costruzioni abusive la grande nobile canosa del tempio di giove toro degli anfiteatri delle fontane dell'ipogeo di san leucio non aveva saputo salvare un briciolo della sua grandezza rabbrividivo allora come torno a rabbrividire oggi allo sbocco della traiana al pensiero di una particolare fioritura unica nel suo genere di quel vase lame a decorazione plastica e policroma ma di una policromia pastello vegetale che mette in testa e intorno ai vasi cavallucci rampanti teste di gorgoni puttini alati divinità zoo e antropomorfe uno scempio pauroso per il quale non basteranno mai i rimproveri a una comunità che non ha voluto e non ha saputo diventare il cuore della cultura archeologica meridionale rientriamo amareggiati dalla valle dell'ofanto e non mi basta pensare che è fiorita proprio in questa città una cultura anarchica che ha dato forti impulsi alle lotte operaie di cerignola non mi soddisfano le immagini dei volti nel ciondolante fiocco nero conservati in daguerrotipi di inizio secolo da uno studio fotografico del posto non mi sollevano i canovacci drammaturgici che i pupari dell'aquila utilizzano per il loro teatrino domenicale canosa è sotto le zolle e sotto gli asfalti in cocci sepolta come le cattive azioni di una coscienza che non rimorde ma ruvo ci serva altre sorprese è ancora il mio amico topografo a gettarmi sulle tracce di antiche strade ne ha scoperta una che univa in età preromana la capitale dei peuceti col mare con i porti di repsa bisceglie e trani partiamo a ritroso proprio da trani con noi c'è un assistente di ruta antonio petronzi ci accompagna con scrupolosa attenzione alla guida di un fuoristrada oggi c'è il sole il centro storico di trani si taglia netto con vele di luce che stanano ogni basso rilievo nascosto nella fitta rete di palazzi romanici la rubum via parte dalle banchine del porto ci sono pochi pescherecci alla fonda il mare un olio e le barche sono uscite per la pesca il grande porto di trani è un anfiteatro di pietra il mondo rinascimentale ha provvisto a coprire le prospettive romaniche aggettantisi sulla marina ha inghiottito quei palazzi con nuove prospettive a bugne ma il recupero della città antica è avvenuto in tempi recenti in maniera razionale e perfetta una visita rapida alla rimessa di casa telesio è d'obbligo perché il barone in questi giorni è in città è un uomo gentile piccolo di statura ci accoglie sul portone della rimessa ancora con le pesanti chiavi in mano la luce del giorno riesce ad illuminare l'immenso salone a piano terra dove sono stipate una quindicina di carrozze ai muri finimenti e fotografie di cavalli bardati il barone telesio ha saputo conservare prototipi di carrozze oggi rarissimi vetture usate fino a metà secolo per raggiungere le tenute di famiglia dal leggerissimo cab alla dimessa giardiniera al calesse al pomposo landò al primaverile e narcisistico break ma insieme alla raccolta di carrozze involontariamente diventata museo mi piace osservare quest'uomo residuo di una classe in via distinzione un uomo che oggi vive di rendita ma a roma chiuso nell'anonimato di un condominio il suo palazzo con la strepitosa raccolta di carrozze resta nella città pugliese a ricordare un nome una famiglia un passato ancora per poco è evidente perché prima o poi i telesio che nulla hanno a spartire con l'omonimo e più famoso bernardino alieneranno i propri beni non faranno più ritorno a trani non si piglieranno la briga di aprire il portone della rimessa per accogliere un visitatore forestiero e lo stesso accadrà al castello di adelfia da che il marchese di montrone attuale proprietario dell'immobile si è trasferito a roma funzionario di un ente di parastato il problema delle grandi famiglie e di molti di quei nobili scaduti dei quali c'è memoria nei romanzi di un pugliese barocco anzi rococò e tuttavia raffinato dico di enrico panunzio discendente dall'aristocrazia più facoltosa di morfetta è il problema dei loro immobili spesso fatiscenti ma è anche il problema della sparizione di una classe e di un pezzo di storia locale ancora in trani mi è occorso di visitare il palazzo del barone broqué il palazzo ha un accesso sontuoso dalla via del tribunale ed ha all'interno in un giardino ricco di magnolie e agrumi nel ventre del giardino si apre una voragine alta 15 metri e nella voragine un cunicolo che a detta del barone dovrebbe portare al mare il barone broqué è un uomo colto e raffinato non è sposato e non ha eredi il suo problema è risolto è costituito dagli immobili e dai futuri destinatari di questi beni mi aggiravo nelle stanze offese dall'umido poco lumigiate il timore dei furti aveva convinto a una difesa esemplare dei vasellami dei vetri delle chincaglierie dei soprammobili dei mobili dei quadri dei tendaggi l'odore di muffa e di chiuso conferiva un'atmosfera museale alla casa le luci basse e l'accavallarsi degli oggetti raramente accarezzati da una mano femminile negavano persino bellezza le cose il barone broqué è uomo di grande finezza colto intelligente ma è un uomo solo attende in silenzio che finisca con lui la sua stirpe un'età forse una specie si è svegliato quasi uno spirito reazionario dentro me di fronte alla sparizione di questi panorami sociali confesso di vivere talora un enorme controsenso tra aspirazioni egalitarie e desideri conservativi trani è un pozzo di memorie da salvare il barone mi mostra tra i molti cimeli in suo possesso una copia del discorso politico che francesco de sanctis pronunciò il 29 gennaio 1883 nel teatro comunale de sanctis aveva 66 anni e non sospettava che si sarebbe spento di lì a pochi mesi a trani ottenne un plebiscito unanime ben 4.300 voti che lo mandarono alla camera dei deputati ma non è questa l'unica testimonianza di rilievo perché il barone mi ricorda l'amicizia stabilitasi tra giustino fortunato benedetto croce e valdemaro vecchi del quale egli si rammarica di conservare uno scarsissimo numero di volumi vecchi era settentrionale si stabilì a trani e aprì una tipografia che in pochi anni stampò un numero considerevole disagi ma della sua rassegna pugliese una rivista di studi meridionali del suo patrimonio epistolare delle carte vecchi molto è andato disperso perché l'intraprendente editore tipografo non ebbe redi e le presse medesime i torchi i piombi molti dei suoi libri giacciono dimenticati in qualche cantina della città la rubun via io credo passi anche sotto le finestre del barone di sicuro passa davanti alla chiesa di ogni santi lambendo nelle arcate ogiva si allunga tra le chiese di san francesco oggi ridotta a falegna meria garage e magazzino e quelle di santa maria di dionisio e di san nicola cercare la rubun via nel cuore della trania antica è un'impresa troppi slarghi sono stati aperti troppi sventramenti e ricostruzioni che si sono sedute proprio sulla carreggiata ma una volta fuori città è facile riconoscerla di ceruta per quella che viene indicata come via vicinale di san martino la vicinale si tuffa nelle campagne collega una serie di ville settecentesche e tocca alcuni insediamenti preromani a pochi chilometri da trani dopo la chiesa romanica di santa margherita si slarga per accogliere lo strano tempio che porta il nome pagano del dio bifronte giano vi si accede per un cancelletto riverso su un pilastrino e per un vialetto sormontato dal pergolato giardino e chiesa sono circondati da un muro alto e sbreccato l'edificio di età pre cristiana venne riadattato nell'undicesimo secolo e adibito al luogo di culto di pianta quadrata con cupola in asse il monumento ha le caratteristiche di un piccolo tempio solare lastricato di chianche il complesso è da tempo abbandonato al vandalismo dei passanti il mistero si infittisce di fronte alla muraglia che incontriamo a 100 metri al tempio una muraglia alta 5 6 metri e possente larga almeno 3 metri e alzata sbarramento a difesa i ruderi si allungano per mezzo chilometro tra i frutteti ma la strada vicinale procede tra lame oliveti colture incontra ancora un paio di insediamenti peuceti e romani tradisce scempi e profanazioni tombali e finalmente si affaccia sulla periferia di ruvo quante strade percorrono le campagne di questa regione forse non le percorse orazio non le percorse virgilio i due poeti venivano da troppo lontano e sicuramente tiravano dritto a brindisi orazio tornava a vedere i luoghi dell'infanzia le case del padre a venosa o le querce castagneti del vulture virgilio la casa di brindisi sulla piazzuola dove la via appia si getta nell'adriatico ma altre strade toccavano insediamenti oggi scomparsi ville sparse e stazioni di posta luoghi sepolti dal tempo e dalle trasformazioni ambientali ricchi certamente di eventi ma avvolti ormai dal silenzio la ruvo greca e romana è sepolta sotto le case del centro storico nell'ottocento le hanno rifatto i quartieri l'hanno privata delle quattro grandi porte d'accesso le hanno lasciato in piedi spezzoni di mura bastioni di pietra bianca la stessa pietra della cattedrale delle grandi cattedrali marine della puglia di castel del monte le hanno lasciato in piedi le porte più piccole che non tagliavano grandi arterie ma immettevano a quartieri secondari ed è a ridosso di una reliquia di muraglia che si leva la chiesa del purgatorio a 100 metri dalla cattedrale è una chiesa barocca di nessuna bellezza ricca di statue della madonna mi colpiscono nell'interno una pietà di cartapesta una dolorata che piange un cristo morto riverso sulle ginocchia della madre e un anziano dalle mani grandi come pale di fighi d'india è il priore della confraternita del purgatorio si fa in quattro per mostrarci i tesori della chiesa il politico di un pittore cinquecentesco che ha lasciato dipinti a bari a barletta a gravine a modugno un iconografo tardo malato di discrezione ma non tanto da non lasciarci le proprie iniziali sulle tele z t qui ha lasciato una madonna con bambino che stringe nella destra una margherita e attornata da quattro santi tra i quali san cleto il protettore di ruvo e a san cleto è dedicata la cripta sistemata sotto la navata sinistra della chiesa il priore si precipita giù per la cripta ad accendere le luci e mentre lo seguiamo ci sorprende la profondità dell'ipogeo umido ma caldo le pareti sono lastricate dai cubili a romani e l'opus reticulatum ci dice improvvisamente che la storia dell'ambiente sottostante rettangolare e con volta botte grande quanto la navata superiore 20 metri per quattro con belle arcate ricavate nella roccia e pilastri di costruzione più tarda è più complessa a ridosso di un pilastro la statua deturpata di san cleto ci svela la commissione di sacro e profano una statua cefala in marmo proveniente da qualcuna delle antiche ville romane di ruvo è stata ricoperta di stucco e provvista di una testa del santo e le boccole di scarico che si aprono in più punti e i due pertugi quadrati lunghi come fumaioli dicono a ruta che siamo in una cisterna romana un'antica cisterna risalente ad almeno due secoli dopo cristo stando alle tecniche di costruzione e riadattata successivamente in luogo sacro qui una volta forse proprio sulla nostra testa spiega ruta dovevano esserci le terme e l'acqua veniva attinta attraverso quei pertugi il priore si stringe nelle spalle alle nostre domande la versione in suo possesso fa appello alle informazioni popolari secondo le quali con san pietro che saliva dal salento sarebbe giunto in paese anche san cleto san cleto si sarebbe fermato avrebbe cominciato a battezzare sarebbe diventato il primo vescovo di ruvo e quindi partito per roma terzo papa della chiesa e infine santo ruta torce la bocca scuote la testa pelata guarda in faccia il suo assistente e fatica a trattenere un riso blasfemo le cose non combaciano dice perché non nacque una catacomba che poi fu trasformata in cisterna ma viceversa perché i muri hanno accenni di affreschi e di tinteggiature in una parete uno scavo recente tappato in maniera maldestra con cemento incuriosisce ruta non ci fate caso spiega il priore tempo fa un sacrestano credette a una voce che gira in ruvo secondo la quale questa cripta sarebbe stata collegata per un cunicolo all'esterno delle mura credette di individuare il pertuggio e si mise a scavare come un dannato incontrò la roccia e si fermò il tanfo di umido si è fatto ora irresistibile sulla parete di fondo si leggono grosse macchie nere prodotte dagli scarichi delle fogne fuori c'è una bell'aria ma resta lo sconforto di sapere che sotto i nostri piedi sono sepolti tesori e che molti altri sono stati trafugati o distrutti resta lo sconforto di sapere che la città di cantatore questa città raccontata attraverso contadine trasformate in odalische e contadini dalle facce in forma di cubi con le mani appollaiate sulle ginocchia come falchi fu con canosa venosa ignazia brindisi taranto tra le più imponenti città greche e romane della pulia resta lo sconforto di pensare che per una mostra sull'antica canosa si è dovuto scomodare i musei di mezzo mondo e che ancora i tombaroli agiscono a proprio piacimento con la connivenza di costruttori e amministratori con la connivenza di archeologi che si contentano di fotografare e produrre testi prima di far seppellire definitivamente dalle ruspe e dal cemento siti tombali visti catalogati dati per distrutti sottratti all'attenzione di altri colleghi possa almeno la discarica del tempo seppellire il ricordo di tanti accecati da furia devastatrice da mala fede e da febbre di arricchimento ingordo